Gli appassionati del gelato notturno possono tirare un sospiro di sollievo. A Milano non ci sarà alcun divieto estivo di consumare gelato dopo la mezzanotte nelle zone della Movida. La precisazione, dopo una serie di polemiche con i commercianti aggiunta dall'assessore Marco Granelli, verrà modificato il testo del provvedimento che scatterà dal 18 maggio sino al 4 novembre nelle 12 zone considerate ad alta concentrazione di Movida. Il testo parlava di divieto di vendita e somministrazione per asporto di alimenti e bevande di qualsiasi tipo, alcoliche e non alcoliche, da mezzanotte alle 6 del mattino. I contenuti finali verranno decisi dopo la raccolta delle osservazioni entro il 10 maggio. Ma le novità non finiscono qui. Regole più rigide per aprire un'attività commerciale sempre nelle zone della Movida milanese. Non basterà più la cosiddetta scia ma occorrerà una domanda che verrà sottoposta a un'istruttoria per la verifica dei requisiti. L'autorizzazione verrà concessa in base a un punteggio su criteri qualitativi come il livello di concentrazione delle attività, la distanza con il locale più vicino, la prossimità con gli immobili residenziali e via dicendo. Entro 45 giorni, se tutto in regola, arriverà l'autorizzazione. Insomma il Comune, come aveva anticipato anche il Sindaco Sala, vuole tutelare e tenere nel giusto conto le istanze dei residenti esasperati da notti estive insonni quando centinaia di clienti stazionano vicino a ristoranti e bar con tavolini all'aperto tra schiamazzi e caos.